buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è 29 marzo 2024 è venerdì ed è un venerdì particolare venerdì santo un venerdì santo che oggi appunto appare nel calendario liturgico eccolo qua lo vediamo non si festeggia nessun santo ma è il giorno della meditazione sulla passione di Gesù Gesù condannato ad una morte atroce forse ormai il fatto della passione della crocifissione lo vediamo come un'immagine così un'immagine simbolica probabilmente ma in realtà oltre 2000 anni fa era un'immagine terribile un'immagine reale prima frustato a sangue di quel supplizio di cui i romani sapevano che i romani sapevano praticare molto molto crudemente poi inchiodato ad una croce una morte dolorosa che attese il signore con tutta la sua drammatica crudeltà possiamo dire Gesù avrebbe potuto evitarla ma così però doveva essere oggi il luogo della crocifissione è inglobato nella basilica del santo sepolcro a gerusalemme e si trova a pochi passi a pochi passi forse nessuno immagina come era la situazione nel momento in cui avvennero i fatti ebbene il calvario in realtà era un piccolo monticello una diciamo così una cunetta non è che fosse un monte un colle si trovava a pochi passi dal sepolcro dove poi la salma di Gesù il corpo di Gesù fu riposto ma il sepolcro poi è anche il luogo del risurrezione ebbene dal venerdì alla domenica c'è tutto il contenuto della fede della religione dalla passione alla morte alla risurrezione e oggi dunque è il giorno del dolore poi vedremo quello invece della gioia venerdì santo passiamo passiamo alle previsioni del tempo una giornata asciutta oggi dovrebbe essere seppur con un transito di qualche nuvoletta nel cielo delle marche una nuvolosità alta che a tratti potrà risultare anche compatta il clima emite per il periodo le temperature si innalzeranno fino a 20 gradi e la minima invece 14 sulle coste i venti saranno da una direzione di est e sud est così come nell'entroterra il mare il mare è mosso il sole è sorto alle 5 e 54 e tramonterà alle 18 e 30 la giornata si sta allungando poi vedremo quando arriverà all'ora legale allora ci sarà ancora più ore ci saranno più ore di luce ecco allora abbiamo terminato le fasi preliminari e diamo un'occhiata alle prime pagine dei giornali vediamo l'apertura oggi sul Corriere Adriatico vediamo intanto la notizia che riguarda la sanità incinta al settimo mese via il carcinoma al seno è stata una operazione eseguita con alta professionalità nel reparto di senologia dell'ospedale Santa Croce di Fano diretto dal professor Magalotti ebbene una operazione eseguita dal primario e dalla sua equip di grande di grande difficoltà è un intervento ad alta specializzazione che nelle marche viene eseguito soltanto a Fano e in pochi altri a livello nazionale in pochi altri ospedali forse in nessuno tanto che l'ospedale che è in prima linea sulla cura dei tumori come quello in cui lavora il figlio del dottore Veronesi è in stretto contatto con l'equipe dell'ospedale di Fano e proprio questo ospedale di Milano ha mandato a Fano la paziente si tratta di una mamma che aspettava un bambino che aspetta aspetta ancora un bambino a 29 anni purtroppo aveva un tumore al seno e quindi prelevare questo tumore senza fare danni al bambino insomma non era facile ma tutto è riuscito nel migliore dei modi e quindi tutti tutti noi possiamo contare su un reparto che veramente ha dimostrato il suo valore la sua professione anche il suo impegno per salvare tante tante pazienti pensate che oggi il tumore al seno propone una guarigione al 98 per cento ma il professore il dottor Magalotti ha detto non ci basta vogliamo arrivare al cento per cento quindi questo è l'obiettivo che si pongono i medici che lavorano nel nostro ospedale ed ora parliamo di piano regolatore parliamo di piano regolatore perché sono giunte al comune le osservazioni dopo l'approvazione del piano da parte del consiglio comunale sono giunte le osservazioni alle quali poi i tecnici dell'ufficio dell'assessorato all'urbanistica hanno proposto le loro contro deduzioni tutto questo osservazioni e contro deduzioni dovranno essere approvati in una prossima seduta del consiglio comunale che verrà convocata nella settimana prossima quindi siamo molto molto vicini 270 osservazioni sono pochissime rispetto alle mille e alle 1066 che furono inviate durante il l'approvazione del piano regolatore del 2009 quindi pensate da 1066 e 270 questo ha fatto commentare al vice sindaco cristian fanesi come in sostanza il piano regolatore che è stato varato da questa giunta soddisfi in massima parte i cittadini perché altrimenti avrebbero presentato le loro obiezioni le loro proposte sì ovviamente ce ne sono 270 non è un numero da trascurare ma di queste 270 il 55 per cento ha detto sempre fanesi e viene presentato al consiglio comunale con un parere positivo quindi i tecnici sono così consenzienti nel convalidare queste osservazioni e proporle all'approvazione dei consiglieri comunali e poi si è parlato diffusamente di due importanti i provvedimenti quello che riguarda l'ex zuccherificio e quello che riguarda le terme di carignano le termini carignano sono state oggetto di una osservazione presentata dal gruppo romani ma è un'osservazione di carattere formale non cambia nulla per quanto riguarda l'assetto urbanistico perché l'assetto urbanistico è stato stralciato dal piano regolatore in sostanza tutto quanto viene lasciato a mano libera ai progettisti della della società che comunque devono osservare le regole che ci sono per incentivarle la società stessa a realizzare questo importante progetto ma al momento non si hanno notizie invece per quanto riguarda lo zuccherificio si hanno notizie positive in quanto una ditta ha presentato le sue osservazioni intende realizzare un polo un polo industriale un polo logistico per quanto riguarda la conservazione delle derrate alimentari non è un'attività inquinante ha assicurato l'assessore un polo logistico dell'alimentare che potrà avvalersi di sistemi ad alta tecnologia pur essendo annoverato questa attività come industria insalubri di seconda categoria non ci sarà alcun inquinamento non si tratta di lavorazione si tratta soltanto di conservazione di cibi e quindi nulla da temere ha detto sempre fanesi per quanto riguarda né l'impatto ambientale né appunto il problema per la salute dei vicini l'uovo sospeso per i bambini in difficoltà una bella iniziativa questa dell'Africa Chiama che propone un aiuto in modo particolare nel clima di Pasqua Pasqua è anche un sinonimo di solidarietà di pensare a chi in questo momento si trova in uno stato di fragilità Africa Chiama realizza oggetti identitari per assicurarsi un sostegno e ripropone le uova con colombe uova e colombe solidali ma anche l'uovo sospeso pensate allo scopo di supportare l'impegno istituzionale in modo particolare per tutte le opere che sono state realizzate in Tanzania dove ci sono mense scolastiche dove ci sono istituzioni che insomma assicurano anche una certa protezione a chi si trova in stato di povertà ieri sera è stato presentato nella sala di rappresentanza della fondazione Carifano un interessante libro si tratta di una ricerca che l'autrice Raffaella Mann ha compiuto sulla colonia Tonini vi ricordate la colonia Tonini ovviamente i Gimarresi sanno benissimo di che cosa parlo era quell'istituto che sorgeva sulla collina di Gimarra e che era un po' il centro di tutto il quartiere lì avevano albergo le associazioni lì c'era il circolo anziani insomma era il nucleo di coinvolgimento di tutto il quartiere la colonia è stata abbattuta sappiamo tutto quello che è seguito la polo holding che voleva realizzare degli appartamenti il fallimento della ditta la presa in carico di parte del stabile del comune dove si sta realizzando il centro civico anzi si è realizzato il centro civico poi la nuova ditta che è subentrata per farci degli appartamenti c'è anche una piazzetta interna dove potranno guardare degli esercizi, dei negozi insomma lì ci sarà un nuovo centro così come la chiesa è sorta sempre lì accanto il parcheggio insomma Gimarra sta vivendo una seconda fase della sua attività ebbene qui tutta la storia dell'ex colonia con Tonnini è fatta da questa ricercatrice Raffaella Manna dall'ospizio marino alla colonia Tonnini si tratta di un libro pubblicato da Aras Edizioni e poi vediamo un altro articolo interessante ieri è stata presentata da due assessori da due assessori assessore alle biblioteche Mascarin Samuele Mascarin dall'assessore ai servizi sociali Dimitri Tinti una iniziativa che riguarda la disabilità si tratta di una serie di incontri ma non solo incontri mostre, laboratori, tante altre cose che si svolgeranno alla Memo dal 2 aprile all'8 aprile una settimana molto molto fitta di iniziative e l'interesse è accentrato sulla disabilità e anche sulla inclusione verranno presentati anche di libri speciali infatti all'inizio l'inaugurazione del 2 aprile riguarda una mostra di libri speciali cosa sono i libri speciali? sono libri che sono diversi da quelli che noi leggiamo abitualmente sono libri scritti in scrittura braille sono libri interattivi sono libri che hanno delle particolarità per essere recepiti per essere così per praticare suggestioni anche dai ragazzi dalle persone che sono esse stesse speciali in quanto hanno una disabilità mentale, fisica o dir si voglia la letteratura per comunicare con il carcere è invece un'altra notizia che riguarda l'esperienza dei ragazzi di Fossombrone l'esperienza degli studenti del donato di Fossombrone nelle interazioni con i detenuti studentesse, studenti detenuti letterature e carcere luoghi differenti con linguaggi differenti la parola come identità è il titolo del progetto didattico che ha coinvolto questi ragazzi dell'istituto di istruzione superiore donati di Fossombrone una del liceo di scienze umane e due dell'istituto professionale servizi per la sanità e per l'assistenza passiamo a San Lorenzo in Campo San Lorenzo in Campo è un comune piuttosto attivo almeno per quanto riguarda la comunicazione perché dovevamo dire che tutte le opere appaiono sempre sui giornali pesati rifiuti da riciclare si introduce la premialità a San Lorenzo il centro del riuso un'adeguata dotazione informatica ebbene continuano dobbiamo dire gli importanti investimenti nel settore ambientale da parte della giunta dell'Onti completato il processo di informatizzazione del centro di raccolta in via Montecatria nel quale gli ultimi anni sono stati realizzati interventi per ben 180 mila euro quindi un'attenzione da parte della giunta anche al dato ambientale oltre che ai lavori pubblici e a tutte le opere che sono state realizzate nel comune passiamo a Senigallia a Senigallia si è assunta la decisione di eliminare alcuni parcheggi e sono parcheggi importanti ebbene sul lungomare da Vinci parcheggi addio intitola l'articolista entro Pasqua verrà riaperto al traffico il lungomare il consigliere Campanile che è una espressione della giunta dice i posti auto non sono sostituiti uno svantaggio per gli operatori economici e dei turisti ebbene bisogna dare l'addio ai parcheggi su un tratto delle lungomare da Vinci che entro Pasqua verrà riaperto al traffico ma senza spazio per la sosta la città torna quindi a riappiopearsi del suo lungomare ma non più dei parcheggi trasformati in marciapiede è stata una scelta ambientalista da parte della giunta vediamo ora le pagine di Pesaro dove vediamo che i mosaici del Duomo questa meravigliosa opera che risale a due periodi della fase primaria del cristianesimo ovvero il quarto e il sesto secolo ebbene uno strato più antico un altro superiore due strati che non sono molto ben visitabili anche perché le vetrate che sono state realizzate dopo la scoperta di questo tesoro culturale di estrema importanza si sono un po' opacizzate e ora c'è un altro intervento per estendere le vetrate per far vedere porzioni più ampie di questo pavimento e quindi rendere ancora più attraente la visita alla cattedrale di Pesaro mosaici del Duomo ampie vetrate e luci per renderli più visibili e guardate come sotto il pavimento ci sono queste strutture che sorreggono il pavimento sospeso perché ci sono due strati come ho detto uno sopra uno sotto e bisogna renderli visibili entrambi i mosaici sono venuti alla luce all'inizio degli anni 90 a Pesaro come ho detto sono su due livelli ed è una delle più vaste pavimentazioni musive paleocristiane quindi è un bene veramente quasi unico beh ce ne sono poi altre aquileia ne vediamo veramente altri di grande importanza ma quelli di Pesaro hanno una testimonianza veramente decisiva importante per l'arte paleocristiana vediamo ora come si si seguono le iniziative che si svolgono in piazza del popolo a Pesaro dove è stata posta al centro della piazza questa biosfera che cambia colore cambia argomenti per temi che si trattano vicendevolmente ebbene ora si parla di uno scudo blu che cos'è uno scudo blu ed è un'iniziativa che ci fa riflettere perché è un'iniziativa che intende proteggere i beni artistici i beni culturali in caso di guerra ma il fatto che si prospetti il caso di guerra insomma ci preoccupa e non è una preoccupazione lontana perché il clima di una probabile attività di guerra si sta estendendo su tutta Europa si comincia a parlare di guerra si comincia a parlare di ferma obbligatoria insomma la situazione dell'invasione dell'Ucraina sta un po' coinvolgendo anche concretamente anche gli altri stati ebbene c'è la Croce Rossa che ha adottato invece questo progetto che dice bene in caso di guerra noi siamo pronti a tutelare i nostri beni culturali beni culturali che poi rappresentano anche la nostra identità oltre che un bene prezioso per tutta l'umanità sotto l'elgida dello scudo blu si protegge piazza del popolo e quindi Pesaro ha dato l'addio a Giuliano Vangi il grande artista che da 50 anni ha vissuto nel capoluogo lui non muore perché il suo ricordo resterà per sempre nei libri di storia dell'arte la sua opera rimane ebbene tanti personaggi che hanno dato l'estremo saluto a questo artista sono stati celebrati i funerali in un duomo gremito veramente da tante persone c'era anche Vittorio Sgarbi ma c'erano anche tanti personaggi politici c'erano il sindaco di Pesaro il vice sindaco Vimini c'era il sindaco di Fano Massimo Seri e altri personaggi ebbene Giuliano Vangi resterà un nome al fianco di grandi come Pomodoro Sguanci Colla Mattiacci Gentiletti insomma gli uomini della cultura che hanno vissuto nel nostro territorio o hanno dato un segno particolare alla nostra realtà niente benedizione nelle scuole il sindaco la faccio imporre ebbene il fatto della laicità della scuola coinvolge anche il nostro territorio non solo quella scuola in alto Italia che ha visto così proporre una giornata di festa per l'ultima giornata del Ramadan questa volta a Pasqua non si benedicono i locali perché la scuola è laica così ha deciso il preside del Raffaello Sanzio che riguarda Mercatino Conca Monte Grimanno Terme e Monte Cerignone questi sono i luoghi da cui vengono gli studenti un no in nome della laicità della scuola ci resta male il parroco ci resta peggio il sindaco Elia Rossi primo cittadino di Monte Grimanno che dopo aver parlato con il dirigente scolastico si tratta di Flavio Bosio sperando in un ripensamento ha dovuto constatare che questo ripensamento non c'è stato e questo è quello che decidono alcuni i professori vediamo anche la pagina di Urbino a Urbino è stata inaugurata la mostra dedicata alle opere ne sono circa 30 del Divin Pittore un risalcimento per la sua città natale il prosindaco Sgarbi era presente alla inaugurazione della mostra 29 opere fedelissime non 30 per quanto riguarda insomma siamo lì per quanto riguarda tutta l'opera completa del pittore che insomma ha avuto le sue radici e anche la sua scuola iniziale nella città Ducale ed ora passiamo al Corriere al resto del Carlino al resto del Carlino che apre la sua pagina con le decisioni che riguardano l'ex zuccherificio dove sorgerà un polo alimentare high tech con l'alta tecnologia via agli scheletri in cemento che verranno abbattuti verranno abbattuti quindi l'area avrà un nuovo stile architettonico avrà una nuova fruibilità uno stabilimento ospiterà uffici e area stoccaggio automazione e intelligenza artificiale animeranno il complesso ebbè è quello che è stato messo in evidenza nella giornata di ieri dal vice sindaco Cristian Fanesi e dalla equip dell'ufficio urbanistica vediamo qui in primo posizione il dirigente Adriano Giangolini ebbene qui si parla dell'approvazione di molte delle 270 osservazioni che sono state presentate al piano regolatore da parte dei tecnici ovviamente poi queste dovranno essere convalidate o meno ma probabilmente saranno convalidate quando giungono con un parere positivo dai consiglieri comunali la prossima settimana e qui invece vediamo come il festival passaggi ha decretato i premi che fanno parte del festival a Catelan il premio fuori passaggi Alessandro Catelan tra i conduttori televisivi e radiofonici più amati d'Italia sarà attribuito il premio fuori passaggi e poi altri premi altri premi al sociologo Luigi Manconi andrà il premio passaggi e al vice direttore del Corriere della Sera Barbara Stefanelli il premio giornalistico Andrea Barbato sono premi prestigiosi questi premi ambiti in ambito nazionale che premiano la professionalità in modo particolare dell'informazione il primo riconoscimento ad essere conferito giovedì 27 giugno alle ore 21.30 al Pincio sarà il premio fuori passaggi ad Alessandro Catelan che è protagonista di una lunga serie di trasmissioni di successo due su tutte per X Factor insomma veramente un personaggio che ha una grande così un grande gradimento dai suoi spettatori dai suoi telespettatori diversità disabilità e inclusione sette giorni di appuntamento e la serie di storie straordinarie in tutti i sensi che viene organizzata alla Memo nella sala ipogea della Memo ne abbiamo già parlato invece non abbiamo parlato di questo articolo che riguarda il campo sportivo dei carissimi doniamo il progetto al comune lo storico impianto necessita di interventi il presidente della società sportiva dice se l'ente viene incontro siamo pronti ad investire per qualificare questo importante campo sportivo che è storico è stato realizzato a suo tempo veramente dai carissimi del Sant'Arcangelo e con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento a domani alle ore 7 e augurandovi ancora una seria e importante riflessione per il periodo pasquale grazie per l'ascolto risentirci a domani il